Sono Riccardo Losco e oggi ti racconterò a grandi linee quali sono le funzioni del back office di Sisel. Ovviamente non scenderò nel dettaglio perché ci vorrebbe molto tempo, il video sarebbe molto lungo, ma mi manterrò su un livello abbastanza elevato per poi in altri video andare a specializzare alcune delle funzioni che sono più importanti. Innanzitutto vedi che questa pagina è costruita in tre parti. Sulla parte a sinistra abbiamo una serie di funzioni verticali che ci permettono di accedere ai cosiddetti link rapidi. La prima sono i messaggi, quindi le comunicazioni da parte dell'azienda. Poi abbiamo i link rapidi che sono il payhub, cioè il tuo portafoglio virtuale, la funzione economica, quindi dove vanno a depositarsi i soldi, da cui vengono presi i soldi per comprare i prodotti oppure per trasferirli dove ti è comodo, magari su un conto corrente. Come poi la funzione iscrivi un distributore che ti permette di iscrivere un distributore nuovo, quindi un nuovo incaricato oppure un nuovo cliente. Effettua un ordine che come dice la parola stessa ti permette di scegliere i prodotti e ordinarli. Gestire le spedizioni automatiche, quindi quelle spedizioni che possono essere mandate in automatico. Visualizzare il tuo albero di downline, quindi tutte le persone che stanno all'interno della tua organizzazione viste in forma di albero. E in ultimo, ma non ultimo, il front line downline volume che è in pratica una funzione che ti permette di vedere in modo di esplodere, scendendo sempre più in profondità dal tuo primo livello, quindi le persone direttamente da te, sotto direttamente sponsorizzate da te, ma puoi scendere ovviamente ai livelli sottostanti. Ci sono poi una serie di menu, c'è pagina principale, business center, strumenti di marketing, strumenti finanziari, informazioni sulla società e il mio account. A proposito, vedi che qui sulla destra c'è questo piccolo piccolo iconcino con la scritta A, questa ti permette all'ingresso per la prima volta che entri all'interno del sistema, di personalizzare l'ambiente per la lingua di riferimento, in questo caso l'italiano. Quindi pagina principale ti riporta a questa pagina. Business center è tutto ciò che riguarda le funzioni sia di ordini, sia di iscrizione di distributori o clienti, sia fondamentalmente tutto ciò che riguarda la riportistica sulla data online, o almeno diciamo le riportistiche principali. Quindi qui abbiamo, puoi iscrivere un distributore o un cliente, qui puoi effettuare un ordine oppure visualizzare gli ordini che sono stati fatti da te oppure dai tuoi clienti, qui puoi impostare le tue spedizioni automatiche, qui puoi attivare delle riportistiche, le riportistiche che sono dirette tutte quante alla tua da online, quindi a tutte le persone che hai iscritto o che hanno a loro volta iscritto altre persone. Noi abbiamo quindi la possibilità di vedere per riga drill down, quindi parti dal tuo primo livello, e poi su ogni singola persona è il tuo primo livello, puoi andare a cliccare, quindi esplodere scendendo nei livelli sottostanti. Qui hai una tua da online personale, vista dal punto di vista prettamente amministrativo, diciamo una grafico, ed è una visione flat, quindi senza una gerarchia. Questo invece è tipo la visualizzazione drill down, ma è fatta come albero. C'è poi il wealth builder report, quindi un report specifico per le persone che hanno scelto di fare wealth builder, che tu hai contribuito a iscrivere, quindi che sono state, diciamo, iscritte direttamente da te. C'è poi il front line down line volume, lo ritroviamo qui, quello che abbiamo visto prima, il personal down line volume è come il down line personale, solamente che è più diretto ai volumi, quindi ai numeri che vengono effettivamente espressi da ogni singola persona. E poi c'è il people mover, che è una funzione che invece serve per spostare persone che sono state iscritte come distributori direttamente da te, e poi le spostate sotto qualsiasi albero della tua down line entro i 30 giorni dall'iscrizione. Perché questo lo vedremo in altre occasioni. Il strumento di marketing, pianificatore e email, quindi ti permette di impostare delle email automatiche, gestire siti replicati, quindi il sito punto, chiocciola, scusami, nome tuo punto sisal punto net è il tuo sito replicato. E la resource library invece è, come dice la parola stessa, un archivio di tutte le risorse che l'azienda ti mette a disposizione al momento, quindi alla data della registrazione di questo webinar, quindi a marzo del 2019, dentro la resource library ci sono le brochure, ma piano piano stiamo estendendo gli altri contenuti. Ci sono poi gli strumenti finanziari. gli strumenti finanziari che sono lo stesso payhub, che ricordiamo è il portafoglio virtuale, il deposito, diciamo, dei soldi che l'azienda ti conferisce come commissioni, e questi li puoi vedere nel paragrafo successivo commissioni, e poi il payhub è anche il punto da cui avvengono tutte le transazioni. Ricorda che le transazioni sono quelle in ingresso, quindi i pagamenti che ti fa l'azienda, quelli che ti arrivano da, per esempio, rimborsi, quindi aggiustamenti che vengono fatti dall'azienda per aggiustamenti vari, rimborsi, prodotti che vengono scambiati, diciamo, restituiti, eccetera, e li trovi praticamente nelle inversioni. Quindi trovi sostanzialmente, nel payhub trovi l'econologia delle transazioni, quindi la storia di tutte le transazioni in ingresso e in uscita, quindi avere il dare delle tue transazioni economiche, e poi hai una serie di altre funzioni, tra cui per esempio le impostazioni, queste però non sono molto importanti in questa fase, non ci soffermiamo su queste. Ci soffermiamo sulle commissioni. In commissioni abbiamo la cronologia passata, quindi tutte le commissioni più recenti, le inversioni, che sono appunto le restituzioni, quindi commissioni negative, il commission summary report, che è un condensato di tutte le commissioni, diciamo riportate per mese e per un intervallo di tempo definito, e i loyalty rewards, che sono i buoni premio, i sconti, anzi i retroattivi, che vengono dati dall'azienda ogni quattro mesi per ordini continuativi. La IPayout è una funzione che noi in Italia non utilizziamo, è una funzione di pagamento elettronico, e poi c'è una relazione sui volumi, volume personale, che è un'altra relazione flat, simile a quelle che abbiamo visto prima. C'è poi qui informazioni sulla società, di nuovo messaggi che vedevamo a sinistra, nel menu di sinistra, notifiche da parte dell'azienda, che compare appena entri, ti permette di vedere le notifiche, poi ci sono le domande frequenti, i contatti aziendali, infine il mio account ti permette di impostare il tuo account. Ripeto, non scenderò nel dettaglio di questa serie, perché? Perché le parlerò in altri singoli video. Volevo però, diciamo, brevemente spiegare cosa c'è in questi due riguardi. Il primo riguardo è un riguardo di riassunto, ti permette di vedere qual è il tuo rank di avanzamento, quindi vedere qual è il tuo livello massimo raggiunto e il livello proiettato, cioè quello per cui stai in qualche modo, diciamo, combattendo fondamentalmente, e quello che hai adesso è quello per cui invece stai combattendo, cioè i livelli successivi. Poi hai il reddito, che è i soldi che sono stati guadagnati nell'ultimo periodo e in generale, e poi c'è il volume dei distributori, che invece ti dà una traccia di quali sono i volumi che sono stati espressi fino ad oggi, in questo mese corrente. Ricordiamo che in CISEL, così come in tutte le aziende di marketing, di network marketing, il periodo di riferimento è il mese. Ora mi fermo qui per quanto riguarda questa breve, brevissima digressione sul back office, perché poi vedremo alcune di queste funzioni in dettaglio.